Musica Mercoledì 3 gennaio, buongiorno, ben ritrovati. L'appuntamento con la rassegna stampa, molti gli argomenti in primo piano, quest'oggi dai quotidiani, si parla di ricostruzione con un'intervista del neodirettore del Corriere dell'Umbria, Franco Bechis, ha il commissario per la ricostruzione nel centro Italia, si parla di sanità con un caso di mala sanità che finisce in tribunale, si parla anche di famiglie e di come provano a sopravvivere, per esempio agli aumenti in bolletta che sono previsti anche per questo 2018. Partiamo dal Corriere dell'Umbria che titola ricostruzione, si parte il commissario De Micheli al Corriere dell'Umbria dice il via entro il primo trimestre 2018 e De Micheli parlando dei sindaci, come dire, virtuosi nel settore della ricostruzione, cita Alemanno di Norcia, Alemanno tra i sindaci virtuosi dell'emergenza. E poi in evidenza dormire ad Assisi costa di più perché dal primo gennaio è stata introdotta la tassa di soggiorno, a Foligno proteste per le strade ridotte a Coloverodo, a Narni, la cronaca purtroppo travolte ucciso da un frecciabianca, una persona, un ragazzo che stava aspettando il treno è stato travolto da un frecciabianca. L'ipotesi più probabile è che il suo zainetto si sia agganciato al treno che passava sui binari. Questo per il Corriere, la Nazione difendersi dalla sanità. Muore in ospedale la moglie, il marito si uccide per la disperazione. Ora la famiglia vuole giustizia e cita tutti in tribunale perché la signora, che dunque è stata la prima vittima in qualche modo di questo caso, presunta vittima di questo caso, avrebbe sostenuto un esame non dovuto a seguito del quale è morta. Passeggero in attesa alla stazione investito dal treno perde la vita, l'abbiamo visto, è accaduto ad un trentenne travolto a Narniscalo e poi giovani in overdose. Siamo a Passignano sul Trasimeno, tre giovani tra i 18 e i 21 anni decidono di passare la festa di Capodanno a Firenze e uno di loro assume troppa droga e finisce in ospedale. E poi arbore il concerto annullato dopo le tante polemiche parlano gli organizzatori, la verità, raccontano la loro versione dei fatti e poi la busta non inquina ma adesso si paga il parere della gente. Sapete infatti che dal primo gennaio si è andata al supermercato nel settore ortofrutta, la busta diciamo così all'interno della quale vengono messi ortaggi e frutta deve essere pagata, c'è una vera e propria ribellione dei consumatori e leggeremo qualche dettaglio. Andiamo al messaggero, energia battuti gli aumenti, negli ultimi cinque anni le famiglie Umbre hanno tagliato i consumi energetici per evitare una stangata da 1700 euro l'anno. Come hanno risolto? Hanno aumentato nelle proprie abitazioni stufe a pellet e caminetti per potersi riscaldare. E poi la storia da Narni, lo zainetto si aggancia al treno, un giovane muore in stazione, la vittima stava andando a Roma, stava aspettando il treno, l'ipotesi probabile è che il suo zainetto si sia agganciato al treno in transito e di fatto sia stato trascinato via. Oggi c'è l'intervista alla professoressa Esposito, che è la responsabile della pediatria del Santa Maria della Misericordia, che è rimasta bloccata a Capodanno in Sudafrica, esattamente su Table Mountain, a causa di un, come dire, della necessità dei soccorsi di quella zona, di aiutare due speleologi in difficoltà, 300 sono rimasti bloccati senza la possibilità di prendere la funivia in cima a una montagna. Sottopassi in musica, siamo a Perugia, la sfida contro il degrado, note luci anche murales per rendere più belli i sottopassi. Leggeremo poi per la politica verso il voto 5 stelle, 3 le conferme sicure, mentre per il meteo temperature più miti fino a domenica. Queste le prime pagine dei quotidiani, nel dettaglio le pagine regionali ripartendo dal Corriere dell'Umbria. Ecco l'intervista di Bechis al commissario De Michelis, commissario straordinario per la ricostruzione nel centro Italia. Finalmente si parte, arrivano le procedure definitive per la ricostruzione leggera, dalla metà di febbraio inizierà anche la ricostruzione pesante. La De Micheli dice che Norcia e il suo sindaco sono un modello virtuoso. Intanto però ci sono anche le proteste, ridateci le nostre case o se ne andranno tutti. Rischio spopolamento per l'area della Valnerina, la denuncia arriva dai social. Intanto c'è anche il caso dell'assegnazione di una casetta al sindaco Alemanno, insomma c'è chi dice è stato privilegiato, in realtà tutto sarebbe assolutamente regolare. Intanto per la ricostruzione e soprattutto per la ricostruzione della viabilità, tempi lunghi per la strada dei sogni, decine di cantieri dell'ANAS per ripristinare il collegamento Umbria-Marca, interventi in serie su gallerie e viadotti, entro un paio di mesi dovrebbe essere sistemato il tunnel San Benedetto ma la situazione sul versante Ascolano resta molto complessa quindi la ricostruzione della viabilità nei territori colpiti dal sisma resta assolutamente un problema. Cambiamo argomento, parliamo di qualità dell'aria, cioè infatti il rapporto ARPA sulla qualità dell'aria in questo 2017 che ormai ci siamo lasciate alle spalle. Ebbene non tira una brutta aria nel senso che tutto sommato è stata un'annata il 2017 migliore di quella del 2016. Le criticità maggiori, lo vedete, per la presenza di PM10 cioè particolato nell'aria restano quelle di Terni e Narni. Insomma la concaternana continua a creare, ad avere difficoltà sotto il profilo della vivibilità. Intanto però a Perugia è scattata l'ordinanza di stop alle auto due giorni dalle 8 alle 16 di dilimitazione al transito dei veicoli inquinanti nel centro abitato del capoluogo e a Ponte San Giovanni. Appuntamento il 5 gennaio quindi a partire da venerdì con i saldi. Insomma inizia la stagione degli sconti per anche incrementare un commercio che soprattutto nel settore dell'abbigliamento e delle calzature è stato davvero fiacco. Avanti tutta con i saldi, l'ultima speranza dei commercianti ma ovviamente ci sono opinioni diverse su questa questione dei saldi. In particolare Confcommercio propone di posticipare i saldi almeno a fine gennaio e fine luglio, troppo vicine insomma in qualche modo e quindi non permettono questi saldi così anticipati di far guadagnare i commercianti stessi. Si spende dopo aver preso lo stipendio, questo è un dato di fatto in particolare dalla seconda alla terza settimana del mese ma secondo Confesercenti chi è che davvero è andato malino in questo periodo natalizio è stato il tessile quindi tutto il settore che ruota intorno all'abbigliamento. Andiamo avanti dal Corriere dell'Umbria, parliamo di lavoro, le vertenze aperte in Umbria sono 150, la crisi si è mangiata, il settore manifatturiero. Questo è il punto della situazione che viene fatto dall'IRES CGL, dai casi più preoccupanti come Peruginex, Novelli, Tagine, Trafomec, a realtà più piccole l'industria regionale è scesa sotto il 20% del PIL e i disoccupati e Cassette Grati aumentano, arrivano a quota 56 mila, davvero un record non positivo ovviamente. Andiamo alla Nazione, le sue pagine in primo piano in particolare, due pagine dedicate a Perugia, la città che non va, c'è rabbia a fonti veggie, mancano i parcheggi e non solo, ci sono ovviamente le proteste per strade ormai ridotte a Collabrodo, Montevile a ostacoli, radici e buche hanno imposto addirittura il limite di circolazione a 20 km all'ora. Insomma, Perugia si riscopre in profonda difficoltà sulla viabilità. La Nazione invece ha premiato ieri nella sua redazione il calciatore Enrico Polidori, la Nazione premia Polidori, bomba ero onesto, lo ricorderete, è salita agli onori della cronaca perché è un giocatore che gioca in eccellenza, di fatto segnalò un gol fatto da lui, che era stato dato dall'arbitro regolare, ma che lo segnalò e se lo fece annullare perché c'era un difetto di mano, insomma non è che succede poi così spesso. E poi questa storia davvero triste, raspettano giustizia, lei morì in ospedale e poi il marito si uccise. Il caso risale al 2012, quando questa signora si chiamava Maria Pia Becchetti, morì in ospedale. In particolare in tribunale si stabilì che le fu fatale un esame clinico che le venne fatto e che di fatto però non era necessario. Il perito del giudice disse i medici furono imprudenti. Ma quella morte il 16 novembre del 2012 fu solo l'inizio di un dramma che si consumò poi nel novembre dell'anno successivo 2013, quando il marito Pierluigi Bazzurri, che era profondamente legato alla moglie, dopo un anno di solitudine si uccise. Ebbene ora i familiari vogliono un risarcimento, anche per danni morali, dai sanitari che operarono la signora. Parliamo di acque minerali. Il business in Umbria fa acqua perché non cresce il mercato delle acque minerali. In particolare i consumi sono scesi da 1.300.000 metri cubi del 2015, si è sceso a 1.200.000 dell'anno passato. Insomma gli Umbri consumano meno acqua e minerali, aumentano però le risorse a favore dei comuni che hanno sorgenti. Ancora dalla Nazione il caso è assolutamente esploso, anche per esempio sui social. Buste a caro prezzo. Dal 1 gennaio infatti nei supermercati si pagano le buste trasparenti con le quali vengono incartati ortaggi e frutta. Sono buste biodegradabili, quindi costano di più, sono state e di conseguenza il consumatore partecipa al costo di queste buste. Per il momento si parla di due centesimi, ma chissà che non crescano fino a 5 e poi conosciamo i arrotondamenti. Ecco perché c'è una vera e propria lotta, diciamo così, dei consumatori a vedersi azzerato questo costo e c'è anche chi dice che servono a poco queste buste, vanno semmai prodotti meno rifiuti. Ancora la Nazione dedica oggi una pagina a coloro che si sono inventati un mestiere assolutamente innovativo seguendo la moda delle app. Noi vinciamo con le app. Ha successo la tecnologia made in Umbria, in particolare un'app che si chiama Squeezy e che è un'applicazione per cellulari e tablet che associa il last minute alla ristorazione e sembra che stia andando davvero per la maggiore. Ancora per le pagine in evidenza, lavoro in Umbria, un anno segnato dalla crisi, timori tra edilizia ed agroalimentare. Il 2017 verrà ricordato per le sue pesanti vertenze in vari comparti. Il commercio, i saldi che partono da venerdì, le speranze di negozianti, manco ovviamente dei clienti che cercano l'affare migliore e poi per le pagine dello spettacolo continua in grande stile Umbria Jazz Winter, Giovanni Guidi trionfa ad Orvieto mentre per gli appassionati di Silvio Muccino l'appuntamento è domani a Todi alle ore 18. Questo per le pagine in evidenza della Nazione. Andiamo al messaggero, messaggero che oggi nella pagina regionale approfondisce il tema energia. Allora gli Umbri stanno risparmiando sulla bolletta energetica, sull'elettricità in particolare, ben 3 milioni di euro. Come hanno fatto? Hanno limitato il consumo di energia sia per luce che riscaldamento utilizzando per esempio stufe a pellet e caminetti, però spendono di più d'estate per i condizionatori che refrigerano le proprie abitazioni. C'è anche la politica nelle pagine di interesse regionale del messaggero, si parla quest'oggi di 5 stelle, la carica dei confermati. Non dovrebbero muoversi da dove sono i consiglieri comunali perugini dei 5 stelle. Dai rumors ci sarebbe l'ipotesi di una candidatura a sindaco ovviamente della capogruppo di Palazzo dei Priori, Cristina Rosetti. Mentre in regione restano dove sono Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari che in qualche modo sono stati promossi per la loro attività. Questo per il messaggero e per le pagine di interesse regionale andiamo nel dettaglio delle pagine locali ripartendo dal Corriere dell'Umbria. Perugia è una città-cantiere, il 2018 porterà il Teatro Pavone e l'Auditorium San Francesco. Intanto però ci sono le proteste dei cittadini di Monteluce che non si danno pace per la chiesa inagibile da nove mesi. A Madonna Alta invece sono stati trovati i soldi per la rotatoria. Andiamo a parlare di un'inchiesta dei carabinieri, quella che si chiama inchiesta piramide finalizzata a capire se e dove in che modo c'erano truffe nelle assegnazioni da parte della regione di posti letto RAE, cioè di riabilitazione estensiva residenziale extra ospedaliera a strutture convenzionate. Cioè l'inchiesta ha messo in evidenza un presunto meccanismo di favoritismi da parte di dirigenti regionali verso strutture private che venivano dunque accreditate. Al centro di tutta questa vicenda c'è un ormai ex dirigente regionale al secolo Antonio Perelli. Così funzionava la truffa dei posti letto e allora potete leggervela. Intanto per la cronaca studio legale a soccuadro e saccheggiato. I fascicoli rimangono intatti ma è sparito il computer di un noto avvocato perugino. Andiamo ad Assisi. Assisi dal primo gennaio alla tassa di soggiorno. Ecco quanto si spende dove andranno a finire tutti gli incassi. La tassa di soggiorno si applica a campeggi ed ostelli, bed and breakfast, camere, country house, case religiose e appartamenti, agriturismi e alberghi a tre stelle. Ovviamente anche alberghi e residenze d'epoca di quattro o cinque stelle. Gli introiti verranno utilizzati, dice il Comune, per nuovi servizi a favore di cittadini e turisti. A Bastia Umbra agevolazioni per le imprese che si trasferiscono nel centro storico. È uno dei punti fermi del bilancio di previsione. Andiamo avanti. Andiamo in Alto Tevere, città di Castello. I numeri cantano, turisti a frotte più 10%. Le feste regalano larghi sorrisi agli operatori del settore. Obiettivo riaprire il camping della Montesca e Fontecchio. Intanto c'è l'appuntamento per il 6 gennaio a partire dalle ore 17 in Piazza Gabriotti con la Befana che scenderà dalla Torre Civica e poi nuovi investimenti in arrivo per la cultura potenziamento della rete museale di città di Castello. Per il lavoro la questione Nardi sbarca a Roma. Verini chiama il vice sindaco Bellanova. Si vuole sapere qual è il futuro dei 100 dipendenti della Nardi dopo il cambio di proprietà. A San Giustino boom di visitatori al presepe vivente mentre ad Ubertide che sappiamo essere in questo momento commissariata quindi in attesa di elezioni amministrative che si terranno a maggio la Lega dice stoppa la moschea. Case popolari agli italiani e più video sorveglianza. Questo è il suo programma elettorale. Andiamo a Gubbio. Il centro storico riparte da parcheggi e viabilità interventi attesi all'ex seminario e al Teatro Romani. in arrivo anche una nuova area per la sosta dietro l'ex ospedale. Intanto oggi è il giorno dell'autopsia per la 34enne trovata morta nel suo appartamento mentre il Mazzatinti annuncia che il prossimo 12 gennaio la notte del liceo sarà aperta da Monica Guerritore. Ancora dal territorio dell'Eugubino Gualdese siamo a Gualdotadino. Il progetto Gualdo Sempreverde è un modello da imitare. È questo progetto di integrazione dei ragazzi richiedenti asilo che vengono utilizzati per la sistemazione delle aree verdi della città. Ancora a Gualdotadino l'appuntamento il 5 gennaio è con la tradizionale Pasquella mentre a Nocera è boom di turisti a Capodanno nelle casette del villaggio della sostenibilità di Bagnara le ex casette dei terremotati. A Fossato di Vico il circolo ACLI Oret Labora parla di lavoro giovani in un incontro che ha riunito le ACLI del territorio. Andiamo a Foligno. Le strade sono una groviera dal centro alla periferia slalom tra le buche e questo sembra ormai essere un refrain di tutti i comuni. Iniziano in tanti i sondaggi sul topino finalizzati alla messa in sicurezza del fiume e poi appuntamento con la festa di Santa Angela, la comunità sinchina domani giorno solenne le celebrazioni inizieranno alle ore 9. Non solo anziani vittime di raggiri, la truffa corre sul web, il monito lanciato da Feder Consumatori e poi ci sono stati dei giorni di apertura gratuita a Foligno della Calamita Cosmica ebbene ben 1.300 i visitatori che sono entrati a vedere quest'opera d'arte. A Spoleto Italcementi compra lo stabilimento della Cementir. Anche l'impianto spoletino è stato acquisito dal colosso gestito dai tedeschi. Il clima resta sereno, atteso un incontro con la nuova dirigenza. Intanto per la cronaca, sigilli nella sede della Spoleto Credito e Servizi e poi uno sportello per le donne vittime di abusi. Sarà attivato nell'ambito degli interventi nel sociale su cui l'amministrazione comunale sta puntando molto. Andiamo avanti, ci spostiamo a Terni. Foto a ripetizione dai nuovi barchi della ZL blindata. Cioè dal 1 gennaio sono entrate in azione le telecamere che vigilano sull'osservanza o meno della ZTL. Ebbene dai primi dati sembra che il 10% delle persone che sono passate di fatto non aveva il pass. E poi a Terni si parla di tassa rifiuti, premi per chi differenzia. Questo era il Corriere. Andiamo alla Nazione, le sue pagine dai singoli territori. Abbiamo ampiamente letto le pagine in evidenza. Dunque ci spostiamo nel territorio del lago, esattamente Passignano sul Trasimeno, scusate. La festa finisce male, assumono droga, uno dei tre va in overdose. La storia è quella di tre ragazzi, tra i 18 e i 21 anni che a Capodanno sono andati a Firenze, sono di Passignano sul Trasimeno, uno di loro per troppa assunzione di droga è finito in ospedale. Ad Assisi invece è polemica sul teatro. La polemica la innesca. Fulvia Angeletti, direttrice artistica del teatro degli Stabili, data in contemporanea con gli Stabili. Com'è possibile, dice Angeletti, fare teatro in Assisi senza sentire l'esigenza di un confronto con il piccolo teatro degli Stabili? Questo nasce dal fatto che il Comune ha organizzato una rassegna che si chiama Inverno a Treatro. Si gioca su questa parola. Sono tre spettacoli che però cadono in contemporanea con quelli degli Stabili e quindi immaginate la polemica. Bastia Umbra, Agri Umbria, compie 50 anni. Il presidente Bogliari dice è ora di ampliare questa struttura. A Gubbio l'appuntamento è gennaio, ma è già con la festa dei ceri. Perché? Perché domenica 7 gennaio nella taverna di Via Fabiani si elegge il capo 10 di Sant'Antonio. Le operazioni di voto avranno inizio alle 9 e termineranno alle 16. Sono circa 850 i ceraioli iscritti all'anagrafe Sant'Antoniara. In corsa ci sono Carlo Ambrogi, Domenico Bagagli e Giovanni Vantaggi. Andiamo a Città di Castello. Nardi S.p.a. Lavoratori a rischio. Ora anche il governo si mobilita. il vice ministro allo sviluppo economico segue le sorti dell'azienda. Lega Nord, siamo nel territorio dell'Alto Tevere, municipale armata e risanamento della Diga. Sono queste le priorità che vengono indicate. E poi, ancora da Città di Castello, successo della 24 ore di fine anno oltre 2.000 euro in beneficenza. Sapete che a Città di Castello c'è stata questa 24 ore di nuoto. la maratona è servita per raccogliere denaro solidale e vedete nella foto anche il vescovo Cancian. E poi andiamo nel territorio di Foligno. Mario Bravi torna al timone della CGL. Tra le priorità c'è il lavoro giovanile. E poi a Cannara, trovato morto nel suo letto, autopsia per scoprire le cause del decesso del tedesco, trovato morto nel periodo di Capodanno, l'ipotesi è che sia stato avvelenato da monossido di carbonio. Ponte proibito, Spoleto, camminamento chiuso da 16 mesi. Il finanziamento per il ponte da parte del Ministero è già stato approvato da tempo, ma l'iter per restituire l'antico acquedotto romano ai cittadini e ai turisti procede a rilento e ad oggi è impossibile prevedere quando il camminamento sarà riaperto. A Terni, operatività della Giunta Comunale, il caso sta al Ministero dell'Interno. Ricorderete, tutto è nato dagli ultimi arresti che sono stati raccontati in cronaca. Andiamo al messaggero, in particolare da Perugia. Sottopassi KO per salvarli, si propongono musica, luci e murales. E poi, assalto al distretto dell'Asl di Madonna Alta. I ladri sono entrati negli uffici, hanno aperto la cassaforte, sono spariti quasi 2.000 euro che provenivano dagli incassi dei ticket. Ancora, abbiamo già letto le pagine di evidenza regionale, ci spostiamo in Alto Tevere, Nardi, 100 lavoratori in attesa del piano. La risposta si avrà solo lunedì. A San Giustino, l'incontro tra i sindacati e la nuova proprietà di matrice inglese servirà a capire qual è il futuro dello stabilimento. A Gubbio arriva il 12 di gennaio Monica Guerritore ad aprire la notte del liceo. A Gualdo Tadino il nuovo corso, il nuovo indirizzo al Casimiri viene ritenuta una vittoria per metà perché si è ottenuto l'indirizzo di grafica, ma non quello focalizzato sull'agricoltura, ma sappiamo che l'amministrazione comunale chiederà un emendamento in regione. Andiamo avanti, parliamo di Foligno, una città a misura di bici, in arrivo anche nuove piste ciclabili, progetti per percorsi in vie Santocchia, Gran Sasso, Innamorati, Fiamenga e Viale Firenze, oltre mezzo milione di euro di finanziamento. È festa, ritorno alla Befana di San Teraclio, già partita la raccolta di doni per i bambini e poi, l'abbiamo visto a Cannara, trovato morto in casa questo tedesco, si attende l'esito dell'autopsia. E ancora, AIRC, una serata speciale con le stelle dell'Umbria, una serata speciale, quella dell'Epifania, da trascorrere in allegria per parlare dell'Associazione Italiana per la ricerca sul cancro. Ancora, da Spoleto, credito e servizi, ultimo atto, blizze dei curatori fallimentari. Ieri sono stati apposti i sigilli alla sede di credito e servizi, ci sono diverse società pronte ad investire, intanto il ricorso pronto sarà depositato il 15 di gennaio, l'ipotesi di risalire in BPS. Andiamo e con questo chiudiamo a Terni, braccio di ferro sul 118, Manzi, dice, decide la regione. Un'informativa dell'Asle 2 dice che bisogna portare a Terni i malati non gravi che arrivano praticamente da tutto il territorio, quindi a Terni piuttosto che negli altri ospedali. Il rischio però è di mettere KO il pronto soccorso di Terni, non usufruendo degli altri ospedali del territorio. Si tratta solo di trasporti interospedalieri, rispondono dall'Asla. E poi ovviamente la storia terribile che è avvenuta a Narniscalo. Lo zainetto si aggancia al treno, giovane, travolto ed ucciso. Inizialmente si era pensata ad un'aggressione, poi le indagini hanno fatto luce sul dramma. Un trentenne stava in stazione aspettando il treno per Roma, presumibilmente era troppo vicino, vedete questo è il cadavere purtroppo del ragazzo, era troppo vicino ai binari, il suo zainetto è stato agganciato da un treno Frecciabianca in corsa. Ci fermiamo per qualche momento e poi parleremo di sport.